Facciamo questo nuovo evento su Genshin, banchetto dei guerrieri che furono. Il misterioso domino ha aperto le sue porte, al di là delle quali si aggirano avversari infidi e minacciosi, in attesa del momento migliore per tendere l'agguato. Solo chi è senza pensieri... Che se è un riferimento a Gomorra? Va bene. Può sconfiggere nemici tanto potenti e tracciare il percorso che conduce a una pura e stupefacente metamorfosi. Va bene. Allora, abbiamo il Thunder Manifestation. Se facciamo più di 6.000 punti ci danno queste. Ora, a me non servono, penso che si possa vedere chiaramente su schermo che non ne ho bisogno. Allora, dai, vediamo un po' come viene gestito. In bacchetto dei guerrieri che furono, il tuo compito consiste nel trionfare su potenti avversari. Puoi modificare il punteggio di base, che puoi ottenere selezionando diverse condizioni di battaglia, e modificare il moltiplicatore di punteggio selezionando il livello di difficoltà della sfida. Questo tuttavia andrà a influire anche sui tratti speciali dei tuoi avversari. Ovviamente, buff, buff queste cose qui. In ogni sfida puoi scegliere fino a tre cadenze per aumentare la tua forza in base alle particolarità degli avversari. Ok. Puoi affrontare la sfida in modalità cooperativa invitando solo un altro giocatore. I risultati saranno registrati per entrambi i partecipanti. Uh, ok. Allora, di vera difficoltà. Moltiplicatore punteggio, esperto. Perché se no la gente poi mi critica che non faccio le cose serie. Allora, io ci provo così. Prima volta andrà male, non me ne frega nulla. Ok, allora io provo a fare questo. Provo a mettere questi tre. Perché abbiamo il danno d'attacco normale e velocità aumentati. Quando abbiamo i PS bassi abbiamo lo scudo, che però dura 4 secondi e c'è la ricarica di 20. Quindi dobbiamo farci un pochino attenzione. E poi abbiamo la velocità aumentata del 15% e il consumo del vigore ridotto appunto di un 15%. Punteggio massimo 6400 punti, che è quello che io spero di raggiungere. E vediamo se ce la facciamo. Dai. Il team è questo qua. Ripeto, ci vediamo. Nel caso non va, cambiamo personaggi. Oppure abbassiamo la difficoltà. Dai, sono fiducioso che qualcosina riusciremo a farla. Qualcosina. Allora, stavolta cominciamo con Jong Lee, va? Allora, recuperiamo un po' di stamina. E vedi, questo mi fa perdere un po' di tempo. Buono. La, la, possibile che non abbiamo caricato tutto. No, oddio. Stavo per farmi colpire come un cretino. Oh, oddio, 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 oddio. Calma, 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 il tempo c'è, tranquillo, 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 recupero il vigore, forza. Dobbiamo solo fare un altro paio di attacchi ed è finita. Ti ripeto, non mi è sembrato nulla di impossibile. A parte che il nemico è abbastanza idiota. Ma quello è un altro discorso. Alla fine dipende da che cosa vuoi fare. Se tu fai danno paio, ovviamente non aumentare di troppo la resistenza al paio. Se no ti tagli le gambe da solo. E ripeto, oltre a questo, basta fare un minimo di reazione. Col dentro sicuramente aiuta. Non mi interessa fare danni con il dentro. Mi interessa avere il buff alla maestra elementare di Naida. Quindi quello è stato il focus del team. E Jong Lee mi dava lo scudo. Tutto qua. Avrei potuto mettere qualche altro personaggio al suo posto? Sicuramente sì. Ma direi che è abbastanza tranquillo. Facciamoci la seconda sfida dell'evento più endgame di Genshin. L'ultima volta ci è andata relativamente bene. Mi ha fatto 6400 punti, secondo me. Ottimi. Ora abbiamo questo tizio, questa Ruingard volante. Non mi ricordo come si chiama, sorry. E vediamo un pochino di affrontarla. Allora, facevo così. Io ci provo a parlo a 7000. Però se questo 50% dovesse, dovesse darmi veramente tanto fastidio, lo tolgo. Però bisogna vedere. Perché il problema non è che lui deve rimanere immobilizzato. Quello è l'ultimo dei problemi. Cioè non deve andare in aria. Capito? Cioè che poi lui si muove, chi se ne frega. L'importante è che non vai in aria. Perché quando vai in aria devi fermare tutta la rotazione. Quindi, vediamo se riusciamo a farlo così. Allora, proviamo questi. Gli altri... Cioè, ok, aumentare l'attacco del 12% non so quanto può essere utile. Contando che utilizzo Raiden. Quindi, no. Ok. Scegliamo il nostro team. Il nostro è il team Cannone. Ormai penso che lo conoscete un pochino tutti. Ovvero Raiden, Benny, Kazuha e la signorina Ujo Sara. Dai. Forza. Ok, dobbiamo ricoltire o dobbiamo mollire. Ok. 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 Pazienza, pazienza, pazienza Finito Ho detto che si poteva fare Il problema di questo nemico Non solo il buff È che lui decide arbitrariamente di avere più punti deboli Che normalmente non ci sono A parte questo Credo che sia una sfida alquanto tranquilla Ovviamente se avete i PG messi bene Ci mancherebbe Mia Raiden ha qualche costa d'azione Gugiosara è C6 Benny è C6 Ma in questo caso non è che ti cambia tanto la vita Invece Kazu ha C0 Però in questo caso Tanto che io faccio per lo più danno electro E riesco a boostarlo a numeri molto alti Mi basta e avanza per fare questa sfida Prossima sfida Avrebbero esserci quei due mostri che li devi uccidere Quasi in contemporanea Sì E vediamo dai come possiamo adattarci Allora intanto già ora siamo vicini al massimo Ora io non so se ce la facciamo così Perché se ti colpiscono con quella palla di energia Ti fregano tantissimo Vogliamo puntare Perché tanto la maestra nel mio caso è già messa bene Quindi Non dovremmo avere difficoltà Ok allora Ci facciamo il nostro bel team Cannone gente Quindi facciamo 1, 2, 3 E 4 Ora avessi avuto la signorina Kujio Sara livellata A livello 80 era meglio Però ci adattiamo Sperando che la nostra signorina Raiden Shogun Possa fare abbastanza danni Allora intanto Inazuma Shines Eternal I must remain calm Let's light it up Illusion shatter Adventure time Run with nature I'm going in Flash Into the wind Andata 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 Ho detto che si poteva fare L'ho detto Bastava solamente fare un pochino di attenzione Al danno che tu dovevi ricevere con i personaggi E alquanto ti riducevano l'energia A parte questo ovviamente Se hai un team cannone Come lo chiamo io E' il danno di Raiden Ci facciamo l'ultima parte dell'evento Banchetto della fiete dei tre regni Ullala Wow Ok Questi sono bastardi eh Allora vediamo dai Nella fase finale Ti ritroverai a fronteggiare molti avversari consecutivamente Prima di iniziare puoi scegliere fino a 4 membri del gruppo E 4 personaggi di riserva Ogni volta che comprati una sfida In base all'esigenza del combattimento successivo Puoi riconfigurare il tuo gruppo Usando i personaggi Gli 8 personaggi che hai scelto Vedi che mi sembrava strano Lo vedi Ci ho detto Forse devo fare una sfida con un unico team E ho detto Cavoli Era una cosa un pochino complicata Ok Proviamo così Proviamo così 12.550 punti Non so se ce la facciamo Allora posso già dire che La Thunder Manifestation La si fa con Con Utao Perché l'abbiamo fatto con quello Gli altri tendenzialmente dovremmo farcela Ci metteremo un po' Perché richiedono un po' di attenzione Ma indicativamente ce la dovremmo fare Indicativamente Quindi riconfermiamo essenzialmente I personaggi che abbiamo utilizzato l'ultima volta No 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 Ricominciamo Non è Cioè Ho sbagliato io con Zhongli Non che mi serva dopo Ma ho sbagliato io Ripacciamo A parte che stavo partendo un pochino troppo di tempo Cioè Non che mi serva nelle altre sezioni Perché indicativamente Con un minuto o due ce la fai Però Ripacciamo dai Mannaggia Perché è finito lo scudo E si è mangiato subito E si è mangiato subito lo scudo Ah è morto Tao Non mi ero proprio Cioè evidentemente avevo lo scudo di Zhongli Non mi sono per niente reso conto che era morto Tao Vabbè Vabbè What the fuck E mi sa che dobbiamo riconoscere da capo Mannaggia La miseria Ma non capisco perché mi ha ucciso Tra l'altro Cioè Ora non è che Raiden era in full vita Però Diavolo Mannaggia La miseria Vabbè Dai Ce la faremo comunque Ce la faremo comunque Abbiamo giusto un po' di tempo Cioè non mi frega nulla Mi frega quella cosa delle barriere Cioè pensate L'attacco più stupido è quello che mi va a fregare Ma ti ripeto Io non demordo Al costo di restare qua fino ad una e mezza di notte Non demordo Perché so che ce la posso fare Si tratta tutta una questione di fare attenzione No Mannaggia E adesso E adesso non so neanche io come prenderlo Allora Ehm Sono stato stupido io Perché gli mancava un filino No Allora mi sono detto Basta una burst Era finito E invece no Perché lui aveva la resistenza aumentata all'electro Quindi non sarebbe bastato Va a vedere che stronzo Madonna Ehm Tutta apposta Se mi buttano giù Kujio Sara Io non posso fare nulla Perché lei è il mio personaggio con l'arco No Credo che sia a quanto chiaro il ragionamento Mi sono stancato Ok Dopo averci perso la terza per 40 minuti Ehm Se dovesse morire un PG lo tiro su Ero contrario all'utilizzo del cibo Però dopo 40 minuti Dopo 40 minuti Basta Quindi Se adesso mi muore un PG Lo vado a suscitare Certo Cercherò di utilizzare la L'ovetto Quindi niente di particolare Però Dio mio Non puoi one shotarmi il PG Scusami Ok la difficoltà Ma fino a un certo punto Ah Dai 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 Perché All'inizio parto sempre bene Mi perdo quando lui arbitra E decide di fare più danno E' Dio 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 Vedi, ora sta andando discretamente bene 89 capo Hai finito? Vedi, ora sta andando a presto. Vedo tutto. Il Tempolo di Wisdom. Solidifico. Questo è ordine. La fine è riuscita a colpirmi. Non sentivo che lo finivo con Yelan, quindi è meglio non andare oltre. Ok. Ritorniamo nel posto dove siamo caduti ormai innumerevoli volte. Che ti ripeto, la sfida secondo me non è difficile. E che loro arbitrariamente decidono, guarda, ci dobbiamo one-shotare. Cioè funziona così, è tassativo. Vedi tu quello che vuoi fare, io ti devo one-shotare così, arbitrariamente. Recuperiamo la stamina. Dai. Buona. Poi lui si mette questa resistenza del cavolo. Oddio. Cioè vedi, prima partiva con un attacco, ora è partito con un altro. Se non mettevo la burst di Bennett. Lui mi buttava giù. Cioè le cose più... Ancora eh. Ancora eh. Oh, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Ok, tutto a posto. Tutto a posto. Per il momento tutto a posto. Adesso lui si dovrebbe alzare. Oh, dio, 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 dai, 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 dai. Dio santo. No. Ma adesso no. Adesso no. Mi sono rotto le scatole. Eh, vabbè, Dio mio. Ma cos'è sto schifo? È bello che non posso rialzare un altro. Lo dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare adesso. E il tempo non è altissimo, eh. Io devo fare un highlight di questo video. Sarà pieno di bestemmie e tutto il resto. C'è incredibile, guarda. Allora, perché si è risuscitato Kazuha? Cioè, in base a che cosa? Chi l'ha risuscitato, Kazuha? Ma ha deciso lui il gioco di risuscitarmi Kazuha. Se no io stavo qua 100 secondi ad aspettare. Va bene. Ti ripeto. La terza sfida finora non l'abbiamo mai fatta. Quindi sarà la prima volta. E oh, diamoci con calma. Abbiamo 186 secondi. Che tecnicamente dovrebbero bastare. Tecnicamente. Però non è mica detto, eh. Forza. Eeeh, l'abbè. Oh già mi Ah ok Oh cavoli E' morto cazzo ancora una volta Hanno una marea di vita Perché hanno tutta questa vita Sicuro vanno sul pilastro No Eh mannaggia Questo è un guaio Questo è un guaio Pensiamo di avere più energia Con Ryder Non ho più Kujo Zara Mamma mia Questo è stato difficilissimo 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 Ora Nota a margine Ho dovuto utilizzare un cibo Cioè un po' di cibo Prima volta che lo faccio in questi eventi Però è stato solamente per risuscitare Momentaneamente un cazzo Che poi si è risuscitato da solo Quindi Non ho utilizzato Buff Io sono sempre dell'idea Di non voler utilizzare buff In questi eventi Ma cioè Con robe di questo tipo Penso che era una roba improponibile Però Però abbiamo confermato l'andazzo Quindi abbiamo fatto più punteggi Rispetto Insomma Un punteggio più alto Rispetto all'ultima volta E mamma mia Cioè Parere finale Su questo Su questo evento Che è molto bello Secondo me Perché queste sono le sfide Di Endgame Dove ti devi saper adattare Però allo stesso momento Cioè Se non ci vai con un team Se non ci vai con un team Messo bene Non ce la fai A fare queste cose Assolutamente Quindi Ben vengano questi eventi Ma solo Solo Se le persone Hanno team Messi bene Personaggi Con delle buone build Altrimenti Tutti questi punteggi Non li vedete Su Su schermo Assolutamente Allora Detto questo Dai Se le prime tre sfide Sono state Un pochino complicate Perché riuscire a fare Capire quali sono I team giusti Diciamo che l'ultima Era estremamente difficile Perché dover mettere Tutto assieme Con altri buff E tutto il resto Poi certo Io ho cambiato un pochino Anche le mie strategie Ma tutto sommato Tutto sommato Alla fine Ce l'abbiamo Fatta Ciao